ciao ragazzi è successo altra notte hanno aperto la porta io per fortuna stavo guardando un film sono in una zona che è un po così un po delinquenziale purtroppo e hanno aperto la porta io mi sono messo a urlare niente per fortuna la gattina hanno richiuso quando hanno sentito che c'era dentro qualcuno e sono scappati via erano due saranno stati ragazzini non lo so non ne ho idea non lo so però è brutto perché comunque ti rimane una roba addosso che dici cazzo era meglio che non succedeva non me l'aspettavo non me l'aspettavo proprio sono riusciti ad aprire questa porta questa serratura poi mettevo erano bravi non so che cavolo abbiano fatto comunque vabbè hanno aperto adesso vedrò di attaccarmi con questo metterò delle cose che si agganciano in un punto metallico magari faccio un foro magari mi attacco da qualche parte non lo so comunque ce n'è uno di qua e un altro di cui sul lato guida di conseguenza così devo fare così faccio quindi cioè è una bella rottura di palle questa è una bella rottura di palle si tanto pensavo alla gattina perché giustamente non è che ti non è una cosa che fa piacere quando quando succede o è successo e vabbè devo fare cioè un bastoncino ce l'hai per darglielo in testa però sai capito magari se magari stai dormendo capito che si portano via tutto per fortuna che erano le 12 e mezza io mi stavo guardando un film su youtube e di conseguenza stato così c'è stata una roba veloce una roba buono lo so magari due ragazzi cioè a me sembravano due ragazzini perché io ho visto correre gente sono venuto giù ho visto correre gente che andava però saranno stati lontani bo 70 80 metri correvano se ne andavano via non so cosa stessero cercando non è una cosa facile perché finché non ti scotti finché non ti succede non me l'aspettavo neanche più sinceramente l'ho già detto ma non me l'aspettavo neanche più perché quando quando ti succedono queste cose tu io ero lì tranquillo in mazzarda che mi facevo gli affaracci miei mi guardavo un film così e se doveva succedere anche questa adesso poi pian piano arriverà la bella stagione quindi sarà sempre tutto più aperto quando ti allontani dal camper che devi fare la spesa di fare le tue cose qualsiasi cosa devi fare comunque trovi nella condizione di o hai qualcuno che ti ti guarda oppure non fai niente ora cercherò di starmene un po tranquillo perché non è che sia questa gran botta però è comunque una cosa che ti fa addormentare ma magari ci pensi e tutto quanto quindi non voglio dilungarmi in questo discorso perché comunque non è stata una cosa bella me l'aspettavo un po di mesi fa cioè ci pensavo poi vabbè o cosa devi fare se hai sfortuna che trovi uno che ti fa del male ti fa del male però voglio dire cioè corpo a corpo me la cavo bene anche se un metro 82 centinaio di chili voglio dire se se uno mi viene sotto deve essere pronto a combattere perché io sono cioè comunque vi do un bacione ragazzi al prossimo video ciao buona giornata